Ragazzi miei, è probabile che nel momento in cui pubblicherò tale video, abbia già trovato personalmente l'isola fluttuante del Dr. Doom Qualcosa che fino ad oggi è stato impossibile, è difficile, è davvero difficile, solamente il 5% di probabilità di spawn di tale isola dedicata al Doom E quindi sì, ci ha pensato il mio compagno di squadra Creepy a beccarsela in modalità duo Quindi a quanto pare può essere trovata in qualsiasi modalità ragazzi, ma che sia batterroial ovviamente, forse singolo, duo, terzetti e squad E il nuovo guanto di Thanos, in pochi ricorderanno quella LTN, ovvero modalità a tempo dedicata al guanto di Thanos e ai suoi poteri Godiamoci questa mega clip Allora, 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 nuova isola fluttuante, ci sei già sopra Ah, ok, 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 stai conquistando l'isola in questo momento Fai fullscreen, ok E lì non capisco che cosa ci sta Ah, è un ologramma sull'inceneritore del castello Vediamo che cosa accade nel momento in cui conquista l'isola di Doom Nooo No, ma è il guanto di Thanos volume 2 500 di shield e 400 di vita Cioè, 500 di shield e 500 di vita sarà Porca vacca, dimmi che te li sei shottati tutti quanti No, è il guanto di Thanos 2.0, seriamente ragazzi Sììì, vabbè Chissà quanto danno fai Che spettacolo, mamma mia, non riuscirò mai a beccarla Ma raga, ma dite che in squad si trova O è solo in singolo? Perché mi sembra un po' stranino, eh Guarda lì Creepy, dimmi che l'hai vinta, per favore Però mi sembra un po' strano Perché ho giocato Abbiamo fatto 11 win in squad Sono tante partite, ragazzi miei, eh Non aver mai beccato l'isola Che dicono che abbia un 5% di spawn A livello di probabilità Il 5% di probabilità di beccare l'isola fluttuante Dedicata a Doctor Doom E a tutti i suoi poteri No, non la puoi utilizzare la Zipland LOL Non vorrei che magari in squad non compaia Vabbè, ma li hai massacrati Chi è, chi è, chi è, fai a go Li hai massacrati Vabbè che sono tutti bot Ma ti stavi divertendo al massimo Ma hai startato con un No Bro, ti ho visto con la sfida E riavvia un amico Boom Let's go Mamma mia Devo beccarlo E Thanos Ragazzi, l'animazione di quando si è trasformato in Doctor Doom Era tale quale a Thanos Infatti il file è lì il file Vabbè Il guanto di Thanos è stato modificato Ultimamente File che riguardavano proprio Quell'item Che se non erro fu implementato nella stagione 4 Capitolo 1 Guarda, guarda, guarda Dominio È enorme Ehm Bro Lol Mamma Ragazzi io non ce la farò mai a beccarla Sono troppo sfigato per prendere l'isola di Doom Non ce la farò mai Ho giocato tante di quelle partite oggi Ma niente Niente Che niente Ciao